A leggere i freddi numeri a spulciare nei bollettini del passato emerge che mai prima d'oggi il virus era circolato in maniera così dilagante. L'ultimo bollettino Asla Avellino restituisce un positivo ogni 5 tamponi effettuati. In 24 ore si sfiora la quota psicologica dei 1000 casi in provincia di Avellino. Dei 964 positivi registrati la maggioranza risiede ad Avellino, 135, ma è soprattutto nei piccoli centri che in proporzione i contagi sono più diffusi. 16 a Daiello, 13 a Capiglia, 24 a Forino, 15 a Frigento, 33 a Mercogliano, 49 a Montoro, 21 a Paternopoli, 13 a Prato la Serra, 30 a San Martino, 20 a Cervinara, 43 a Solofra. Nulla di nuovo sulle cause. Omicron è molto contagiosa. Nelle scuole la variante moltiplica i positivi rapidamente. Le rigide temperature invernali e i contatti al chiuso favoriscono la circolazione del virus. La buona notizia è che da ieri tutti i reparti ordinari dell'ospedale Moscati, riconvertiti per il Covid, si sono svuotati e i pazienti positivi sono nella Palazzina Alpi. In totale sono 25 i pazienti assistiti, di cui 5 in terapia intensiva. 23 i ricoverati ad Ariano Irpino, dove si è invece registrato nelle ultime 24 ore il decesso di un 84enne di Savignano Irpino. Purtroppo l'escalation del contagio non promette nulla di buono. Tra due settimane è atteso un ulteriore picco di ricoveri, in particolare di persone anziane fragili, che restano le più esposte. Vaccinazione, mascherine e distanziamento. Le armi per superare questa nuova recrudescenza dei contagi restano sempre le stesse.